Il prossimo 6 dicembre, domenica alle 14.30, ci sarà il workshop di Simone Ravenda dedicato al mentalismo impromptu, però vogliamo sapere qualcosa di più a proposito di questo seminario. Quindi, Simone, cosa ci proponi? Cosa proporrà ai nostri amici? Allora, questo vuole essere un seminario specialmente pratico che dimostra esperimenti di mentalismo impromptu, come ben detto dal mio caro amico Filippini. Cosa si intende per mentalismo impromptu? Lo sappiamo tutti. Il mentalismo impromptu è quel mentalismo improvvisato, cioè quel mentalismo che dal mio punto di vista ha il sapore della realtà, perché come dico sempre, il vero mentalismo, quello che viene percepito come mentalismo davvero autentico, è quel mentalismo che non appartiene al quadrato, alla quadratura nera del teatro e dello spettacolo. Quindi saranno effetti impromptu che però devono avere delle caratteristiche precise. Queste caratteristiche sono gli effetti devono essere, ovviamente impromptu, vabbè l'abbiamo detto, molto semplici, quindi devono essere fatti in maniera veramente, non dico automatica, ma quasi focalizzandoci specialmente nella presentazione. Devono essere molto potenti, quindi non facili e quindi anche, sai, quegli effetti un pochino più da riempimento, no? Devono essere molto potenti e devono mostrare un potere o una dote di supercomunicazione, comunque un potere chiaro e distinto. Per poteri stiamo parlando di telepatia, chiaroveggenza e queste cose nel caso. Sì, no, con potere intendo anche una superdote, anche una superabilità, esatto, può essere anche una superabilità come la supercalibrazione, eccetera, eccetera, comunque una dote chiara e specifica. Ogni esperimento parte da un punto A e finisce a un punto B, senza altre vie, chiaro, diretto, semplice, però al contempo potente. Questo è il seminario che ci sarà su AMS, utilizzando soltanto, e poi si vedrà anche, non soltanto queste cose, ma specialmente carta e penna. Fantastico. Bello, bello. Fantastico. Guarda, io personalmente non vedo l'ora e per qualsiasi informazione supplementare vi invitiamo a scriverci, a contattarci, a questo indirizzo email che passa qua sotto e a visitare anche il sito di AMS www.advancedmagic.it e non vediamo l'ora di avere Simone col suo workshop domenica 6 dicembre alle 14.30 su Zoom. Bene, a presto allora a tutti, un abbraccio e continuiamo con AMS. Ciao, ciao.